Sindaco, questo episodio di cronaca che interessa il suo territorio? Buonasera a tutti, è un episodio che abbiamo seguito da quando è nato come vicenda di un comune limitrofo, non lo pensavamo che ci potesse interessare come territorio. D'altronde siamo qui confinanti, tra l'altro in una provincia diversa, perché sicuramente è stata scelta l'Enola. Una cosa vorrei dire è che la comunità nostra è una comunità sana, questi episodi non dovrebbero accadere, purtroppo accadono, spesso legati a faide tra pastori, pazienza, insomma. Complimenti alle forze dell'ordine per il lavoro che hanno fatto, che è stato sicuramente un lavoro molto indomobile. Nonostante il ritrovamento sia avvenuto lontano dal centro abitato, comunque la notizia ha un po' scosso la città, immagino. Sì, sicuramente, anche perché mi hanno chiamato più persone e non si sapeva che fosse legato a questa vicenda di Valle Corsa. Tranquillizziamo quindi la collettività in questo senso, dicendo che non è un episodio che riguarda questa comunità.